musica weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi da una mezz'oretta è iniziata la settimana numero 9 di fortnite quindi sette nuove sfide per poter guadagnare un bel po di punti esperienza 10.000 in totale se per caso siete già livello 100 del pass battaglia o invece come al solito stelline del pass per avanzare nei livelli e raggiungere il tanto ambito omega vi dico già ragazzi che c'è una novità ma la sapete sicuramente anche se non la sapete ve la dico lo stesso ragazzi dal 29 giugno al 2 luglio si potrà ottenere il doppio dei punti esperienza in ogni modalità che garantisce ovviamente punti esperienza quindi vuol dire che paradossalmente se giochiamo in team con tutto il team che dà il 40% di punti esperienza agli amici noi avremo un guadagno del 480% rispetto al 240% questo serve appunto per chiudere nel migliore dei modi la season e arrivare a livello 100 oggi invece in questo video andiamo a vedere ragazzi la stella segreta della settimana 9 si trova a crocevia del cerpame e state vedendo il marker rosso proprio qui ragazzi dove hanno messo i miei compagni di squadra il punto vediamo di atterrarci vediamo di recuperarla e di prenderci mille punti esperienza eccola qua ragazzi eccola qua meravigliosa meravigliosa guardala qua tutti che ballano ce la prendiamo e otteniamo la stella segreta e poi parto il fight attenzione e andiamo a vincere ragazzi attenzione no e poi mi killano malissimo e poi mi killano malissimo mi killano malissimo va bene ragazzi l'importante ragazzi era vedere la stella segreta del pass battaglia io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video vi ricordo un bel like se vi è piaciuto iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo in live ciao 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 ciao